Marco Filippetti, presidente APA Hotels dalla fine di giugno, ha iniziato un percorso per migliorare l'attrattività, soprattutto di Pesaro come destinazione turistica. Sì, intanto ho ereditato comunque un'associazione in buona salute, è mio dovere continuare a cavalcare questa modalità. Stiamo lavorando soprattutto con progetti futuri per soprattutto presentare dei progetti all'amministrazione e al comune per cercare di comunicare meglio la destinazione Pesaro. Ecco, Pesaro ha un suo focus sul periodo estivo, essendo località balneare, però si cerca di guardare oltre. Assolutamente sì, Pesaro non deve essere una destinazione solo mare, come ho detto poi nel discorso del mio insediamento, la condivisione, la collaborazione tra anche associazioni diverse, ma anche paesi dell'entroterra possono fare molto e lavorare nella maniera giusta per cercare di attrarre quel pubblico che non cerca solo mare, ma cerca anche bellezza dell'interno. Il percorso di capitale della cultura, discutibile o meno, comunque ha aperto una strada diversa, una strada anche dal punto di vista culturale che può fare gioco a questo obiettivo? Sì, Pesaro 2024 comunque ha dato una grossa risonanza a Pesaro, bisogna assolutamente cavalcare questa forma o questo target di clientela che è inerente alla cultura, e siamo, diciamo anche qui, stiamo buttando giù progetti per cercare poi perché il target culturale appunto va in quella direzione della destagionalizzazione, quindi non cerca solo mare ma anche ottobre, novembre o magari aprile e maggio possono assolutamente allungare la stagione, quindi prendere quel target di clientela per cercare di destagionalizzare il più possibile. Ecco, in questo 2024 avete notato una differenza anche sulla tipologia di turista tra l'italiano e lo straniero? Ma siamo molto contenti perché quest'anno abbiamo rivisto i turisti tedeschi che avevamo perso in passato, l'obiettivo va anche in quella direzione lì, cercare sempre di prendere su un turismo anche estero, soprattutto il mercato chiamato DAC, quindi Deutschland, Austria e Svizzera, e sulla Germania nel progetto diciamo che vorremmo anche una collaborazione con la regione per sviluppare anche l'aeroporto comunque di Ancona perché abbiamo visto che ci sono voli giornalieri per Monaco di Baviera che è praticamente il nostro bacino prevalentemente di utenza tedesca. Grazie.